Ciao a tutti e al vostro caro Max Random Ragazzi oggi siamo qui su Fortnite a provare a fare una cosa veramente molto particolare Proveremo a costruire una nuova città Si avete capito bene, proveremo a costruire una nuova città noi con i nostri materiali nella modalità parco giochi Allora per questo video vediamo di raggiungere i 300 like So che ce la possiamo fare e so che ce la faremo Mi raccomando quindi spolliciate tutti a non finire Mamma mia voglio uno spolliciamento incredibile Adesso dobbiamo pensare un posto spazioso dove poter costruire la città Comunque la mappa è quasi tutta occupata Quindi io direi di farla o qua o qua Perché comunque qua c'è tanto spazio, quello è brutto Qua è bello, ci sono le strade Quindi io direi di andare proprio là Perché comunque è pieno di strade, è carino, è bello Ci piace, ci piace Allora abbiamo un'ora di tempo Non so se ci riusciremo Non so se ci riusciremo a fare Tipo non lo so Però raga, secondo voi Dovremmo farla tipo una specie di Tilted Oppure una specie di Che ne so, Borgo Bislacco con le casette normali Io direi di fare qualche palazzo e qualche casetta normale Così accontentiamo un po' tutti E tra l'altro Perché questa casa è tutta buggata Vabbè, quelli sono dettagli Qua non è male Perché qua c'è per esempio un ponte Che potrebbe portare all'altra città Quindi Eh no, però questa dà un po' un fastidio come casa Ed è pure grande Vabbè no, dai, questa rimaniamola Questa rimaniamola Perché sennò poi sprechiamo troppo tempo Per distruggerle, queste case Allora, distruggiamo questi scatoloni E direi di fare la prima casa Esattamente qua Vedi, è tipo un villaggio Tipo un villaggio È bello Secondo me Potrebbero venire molto belle Molto Molto simmetrico Ok E poi mettere tipo qui le scale A Avete capito Le scale Ecco qua In questo modo Magari anche più basse Perché sennò poi Dobbiamo alzarla un po' troppo E non va bene Qua poi Cioè facciamo tutto il pavimento No, questo Dobbiamo levarlo Ok, adesso saliamo sopra E dobbiamo fare un tetto Ok Così Non ci sta male Quindi Com'era Così Ok E lo mettiamo Esattamente Aspetta Lo ruotiamo Così Ok Ok Poi qua Facciamo così E poi qua Facciamo così Perfetto Poi facciamo le scale In questo modo E sopra Ci mettiamo Una normale Piramide Ok Perfetto Questo li distruggiamo Ed ecco qui La prima casa Non è male Non è male Non è Il top del top Eh Questo è Basso Budget Low budget Vi è di fare anche delle stanze Tipo qua si entra C'è una stanza così Una stanza così Perfetto Poi saliamo sopra Ok Perfetto La prima casa È completa Questo Diciamo È il top Delle case Non faremo Altre case Grandi In questo modo Perché Diciamo che È un po' Esagerato Ecco È un po' Esagerato Perché Capite bene Non posso fare Tutte le case Grandi In questo modo Allora Passiamo A un'altra casetta Che direi Di fare Qua sopra Ok Seconda casa Completata Perfetto Ragazzi Il villaggiro Non sta venendo male Quindi Andiamo qui Vediamo Ecco Queste sono le prime Due case Dai Non possiamo Lamentarci Il problema È che Vabbè Ci sono dei Rialzamenti Un po' Strani Però Non ci possiamo Far niente Non possiamo Modificare la mappa Qua sopra Invece Direi di Sfruttare Questa salita Per fare Una specie Di bar Ok Ecco qui Ecco qui Ok Quella è la casa Questa è una specie Di bar Questa è un'altra Casa Questa è un'altra Casa Questi alberi Direi di demolirli Oppure Questo lo togliamo Perché mi servono Materiali Però tipo Qua sopra Potremmo fare Una casa Sull'albero Ci starebbe Ci starebbe Veramente Ma Mamma mia son manco capace a fare una casa sull'albero semplicissima manco quello so fare ok casa sull'albero fatta sembra più un cubo strano però un cubo un container fa un po' schifo però ragazzi noi ci abbiamo provato noi ci abbiamo provato siamo a un bar ok una casa grossa una ancora più grossa una casa sull'albero e ora che possiamo fare? un'altra casa qua ci starebbe no? un'altra casa qua io direi che ci sta proprio quindi proprio vicino al bar e stavolta direi di farla in larghezza la casa e non tanto in lunghezza quindi facciamo così poi facciamo così un'altra casa è stata fatta ok perfetto il nostro villaggio o città sta prendendo forma sì ok è abbastanza spazioso quindi direi di fare non dico l'ultima ma una delle ultime case qua ah mi sono appena reso conto che mi sono dimenticato delle finestre ok raga ho alzato la qualità al massimo così è anche più figo qua direi di mettere una finestra poi direi di entrare qua mettere una finestra pure qua qua chiudiamo la porta mettiamo una pure qui e usciamo ok perfetto di qua le ho messe nel bar non le ho messe quindi andiamo nel bar che non sembra assolutamente un bar però vabbè facciamo finta che lo sia quindi finestrina qua perché non me lo fa modificare o vogliono ok finestrina qua finestrina qua e niente questa è la giornata questa casa fa proprio pena fatemelo dire però quella è la più bella secondo me quella è la giornata ok cos'altro cos'altro potremmo fare abbiamo fatto una casa qui una qui un bar lì una casa dietro un'altra casa qui direi di farne una cioè l'ultima a posto di quell'albero che andremo a distruggere anzi questa qua poi la facciamo piccolina uno per uno no vabbè raga facciamo una casa attorno a lama quindi ragazzi io direi di metterci in un posto alto e osservare il tutto dall'alto perché è venuta non è venuta male male cioè non dico che fa schifo facciamo un cartello guardate raga adesso il signor Max Landon vi insegna come si fanno i cartelli noi la chiamiamo la Maxville ma si dai ci sta ci sta ci sta la Max Town Max Town Maxville una cosa del genere ci sta ci sta ragazzi ci sta a noi ci piace ci piace adesso la andremo a guardare nella modalità replay e quindi ci vediamo ok andiamo a guardarla invito scaduto ma che caccia what the fuck what ma che ma perché sono tutto buggato vabbè comunque andiamo nella modalità si è sbagato no non si è sbagato andiamo nella modalità replay quindi replay e andiamo esattamente esattamente nell'ultimo replay rifiuta andiamo qua eliminazioni zero e mi sembra giusto giustamente ho fatto parco giochi zero kill mi sembra anche giusto allora questa era prima no perché qua segna 100 giocatori eccola qui ragazzi ecco qui maxville ok direi di eliminare un attimo la webgam e farvi vedere il tutto un po' meglio ecco qua mi piace guarda non è male a me sinceramente non dispiace se devo dirvi la verità guarda là c'è la casa quella grande qua c'è una più piccola là ci sono le tre casette di youtube e tre materiali con il lama dentro che benesse però se si alzasse ahia alzati vai si vede la ma si si vede un pochino poi si gira ci sta quella casetta qua c'è il bar qua c'è un'altra casa quindi ragazzi diciamo che non è venuto malissimo mi piace voto 10 ripetevo la webgam quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bellissimo pollice o l'izzo iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un nuovissimo video mi raccomando 300 like per questo mi raccomando 300 like per questo video e noi ci vediamo appunto in un prossimo video ciao ragazzi ciao